La chicca è l'ultimo annuncio del Presidente Marsilio, tamponi per tutti anche nell'area vestina, annuncio di due giorni fa e purtroppo però gli amministratori del territorio non sanno assolutamente nulla di questo, sono stati raggiunti da centinaia di telefonate per chiedere spiegazioni sui tempi, sulle modalità eccetera, ma non hanno saputo dire assolutamente nulla. Quindi abbandono totale in termini di ritardo, in termini di mancata condivisione anche di momenti costruttivi che abbiamo portato avanti con gli amministratori di Farindua, Montebello, Civitella, Penne e Picciano e ora adesso anche questa ennesima presa in giro. Io chiedo innanzitutto che si faccia una riunione urgente con gli amministratori locali per armonizzare le regole, per fare in modo che nell'area rossa ciascun comune abbia le stessissime regole perché è molto importante per questi amministratori. Chiedo che si tenga conto in particolare di chi produce nell'area vestina e chiedo soprattutto che ci sia un raccordo con gli amministratori anche in termini sanitari proprio per questi tamponi. La replica al consigliere regionale del PD Antonio Blasioli non è tardata ad arrivare. A rispondere al consigliere di centro-sinistra che aveva sollevato problemi riguardanti una sorta di abbandono degli amministratori dei comuni all'interno della zona rossa istituita in area vestina, il vice sindaco di Civitella Casanova Augusto Recchia, il quale parla di nessuna lamentela dell'amministrazione comunale ai piani alti della regione Abruzzo, anzi al contrario di una costante vicinanza della regione al comune pedemontano vestino in questo momento difficile. Noi siamo costantemente in contatto sia con il Presidente Marsiglio, con l'assessore Verì e con tutti gli altri membri sia della Giunta che del Consiglio regionale, i quali si sono sempre dimostrati disponibili e attenti alle nostre esigenze. Certo in queste condizioni problematiche con carenza di personale, scarsità di reagenti eccetera eccetera, tutte le altre problematiche che questa situazione emergenziale sta comportando, diventa veramente difficile far fronte in maniera impeccabile al problema Covid e neanche si può richiedere al Presidente Marsiglio di organizzare con 48 ore una serie di tamponi a tappeto su tutti i comuni della zona rossa, neanche avesse a disposizione la bacchetta magica. Io mi aspetto pubblicamente le sei scuse, ma non per me o per gli amministratori di Civitella Casanova, ma per tutti quei cittadini che lui rappresenta e per il suo ruolo che riveste.